Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come realizzare l'anello magico. L'anello magico si usa prevalentemente per creare amigurumi, si può chiamare anche cerchio magico. Oggi vi farò vedere due modi per realizzarlo. Partiamo dal più semplice, dal più usato. Lasciamo un po' di filo in eccesso perché poi sarà la nostra cordina che andremo a tirare per restringere il lavoro. Lo posizioniamo su due dita oppure a seconda della grandezza che vogliamo del nostro anello. Poi lo incrociamo e lo facciamo ripassare qui sopra. Poi con il nostro uncinetto passiamo sotto il primo filo ed estraiamo il secondo in questo modo. Poi facciamo una catenella. Ok, in questo modo. Abbiamo creato il nostro anello magico. Ora il pattern che stiamo seguendo ci potrà dire di lavorare un tot di maglie, per esempio 6 maglie basse, 6 maglie alte, nel nostro anello. Dobbiamo lavorare sempre nella parte a sinistra, dove in genere c'è il nostro filetto. Andiamo a vedere. Mettiamo caso che io devo lavorare 6 maglie basse nel nostro anello magico. Quindi faccio così. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché tiro il nostro filetto in questo modo. Vado a chiudere il lavoro con una maglia bassissima. E voilà, abbiamo finito il nostro anello magico. Questo era il primo modo. Ora vediamo il secondo. Allora, questo secondo metodo si chiama anche doppio anello magico. Vi farò vedere perché. Lasciamo sempre il nostro filo. Quindi posizioniamo il filo in questo modo sulla mano. Lo facciamo passare sopra, in questo modo. E lo facciamo girare un'altra volta. Quindi diciamo che dobbiamo avere tre fili sulla parte superiore della nostra mano. Entriamo sotto e al posto di prendere un filo. Questa volta ne prendiamo due. Ok. Li estraiamo. E facciamo un cappio. In questo modo. Lavoriamo sempre nella parte del nostro filo. Per esempio, 4 maglie basse. Quindi 1, 2. Scusate. 1, 2, 3, e 4. Tiriamo il lavoro e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qui. Scrivete nei commenti qual è stata la tecnica più usata in questo video. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. A presto! Ciao!